La giovanissima, bellissima Italia Under 17 è campione d'Europa, vittoria a Cipro in finale 3-0 contro il Portogallo. Una grande, una bellissima notizia, non solo per il trionfo, non solo per il trofeo, che alla fine possiamo anche mettere da parte, ma soprattutto per come è arrivato. Un'Italia molto equilibrata, ma soprattutto propositiva, una squadra che gioca con voglia di conquistare e di mantenere il possesso del pallone, voglia di attaccare, anche con un gioco abbastanza evoluto, quindi molto promettente per il futuro del calcio italiano. Tanti giovani, soprattutto Francesco Camarda, doppietta in finale, blindato adesso dal Milan con un rinnovo contrattuale, ma anche giocatori dell'Inter, della Juventus. Quindi ci sono giocatori anche di Serie A, di club di Serie A, al momento che militano in questa Under 17, che è una cosa importante perché ci dice che il futuro del calcio italiano è già negli organici delle squadre più forti in Italia, teoricamente. E quindi squadre più forti in Italia che si sono tenute sveglie su questi prospetti, anche se poi hanno fatto magari rose piuttosto vecchie, come quella dell'Inter, o acquisti esorbitanti anche all'estero, o tra gli stranieri, come per esempio la Juventus. Però appunto si guarda anche a questi giovani, non ci si è distratti più di tanto e potrebbero trovare spazio anche in Serie A e questo potrebbe essere davvero l'avvio di un nuovo circolo virtuoso per il calcio italiano. Giocatori anche della Roma, del Napoli, dell'Empoli, guidati dal CT Massimiliano Favo. In federazione dal 2019 come vice allenatore e poi allenatore delle giovanili partendo dall'Under 15, in precedenza un passato da calciatore tra metà anni 80 e metà anni 10 del 2000, passando anche per Napoli dove è nato la Salernitana e pure l'Ancona e qualche altro club comunque tutti in Italia per poi allenare proprio a livelli di Serie C prevalentemente, prima di passare appunto in federazione dove sicuramente ha fatto un ottimo lavoro perché non è mai facile, non è mai scontato vincere un torneo internazionale, frutto tra l'altro di ben sei gare disputate, ma soprattutto farlo con questo tipo di calcio. E allora nel festeggiare la bellissima Italia Under 17 con ringraziamento e onore a chi l'ha seguita dalla partita zero, quindi non io, e per fiducia anche in questo progetto, c'è da festeggiare soprattutto il significato di questa vittoria. Non legarsi risultatisticamente soltanto alla Coppa alzata al cielo che comunque dà una grande forza a questi ragazzi, un grande motivo di convinzione in quello che devono fare, di autostima, ma soprattutto per come si è giocato. E l'importante è far passare questo messaggio ai giovani di Favo e dell'Under 17 italiana. Non è vincere ma come vinci, non è adagiarsi e fermarsi sugli allori per questo trofeo, ma capire che il lavoro che si è fatto è stato ripagato e quindi proseguire con lo stesso lavoro facendo sempre meglio. Perché qui si ripongono le speranze del calcio italiano e degli italiani per il futuro della nazionale italiana. Si parte da questa Under 17 e da cosa se no? Ovviamente poi a sfumare e a salire Under 19 e Under 21, ma lì il grosso del lavoro è già stato fatto. In realtà si parte ancora più in basso dall'Under 15, ma tutto sembra molto promettente con l'augurio che questi ragazzi, oggi campioni di Europa Under 17, non spariranno nel nulla, ma ci si investirà per valorizzarli, per farli crescere e appunto per far sì che possano essere i titolari forti della nazionale italiana maggiore, forte del futuro. Grazie a tutti.